Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, oggi sono qui in prima persona per presentarvi una mia nuova creazione, il programma che si chiama Fortissimo Nazionale 2022, è una cosa che tanti di voi aspettavano ma ve lo faccio vedere subito, prima vi faccio vedere gli effetti speciali, ecco abbiamo anche gli effetti speciali oggi Ok, questo è il programma per Windows che si chiama Fortissimo Nazionale, in poche parole che cosa fa e dopo ve lo faccio vedere in dettaglio Aggiornamento delle estrazioni, sempre automatico da internet, basta un clic, si accede alla videata di ricerca, nella videata di ricerca abbiamo il famoso grafico lineare questa volta per la Nazionale, che cos'è un grafico lineare? È un grafico che vi fa vedere, guardiamo per esempio per il numero 22, si può cliccare su ogni numero e fare le proprie valutazioni Il programma non è che vi dà direttamente i pronostici, vi fa vedere numero per numero quali sono i numeri più interessanti, le situazioni più interessanti Per esempio, numero 22, questo è il grafico principale, qui sulla destra abbiamo un valore 12, significa che il numero 22 al momento ritarda da 12 estrazioni Quindi l'ultimo valore sulla destra è il ritardo attuale Prima troviamo un 21, vuol dire che quando è uscito l'ultima volta aveva 21 turni di ritardo Prima ancora 14, quindi aveva 14 turni di ritardo Prima ancora 2, 8, 10 e così E quindi questi valori in pratica sono le distanze tra un'estrazione e l'altra, le distanze proprio in numero di estrazioni tra una sortita e l'altra del numero 22 Allora, che cosa conviene fare con questo programma? Conviene andare a osservare l'andamento delle estrazioni e prendere i numeri che sono più stabili Quelli che io chiamo galleggianti, in questo caso questo è proprio un numero galleggiante perché è un numero che si ripresenterà quasi sicuramente Insomma, vedete che andamento regolare che ho avuto L'andamento si osserva nelle ultime 6, 7, 8 uscite, vedete? Queste sono le ultime uscite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 uscite E l'ultima, questo 12 è l'attuale ritardo Ma attenzione, questo programma non fa solo questo, questo programma permette anche di osservare le posizioni migliori E questa è un'altra cosa che tanti di voi stavano aspettando, le posizioni per la nazionale Quindi numero 22, dove lo giochiamo? Sulla nazionale Lo giochiamo su queste posizioni Quindi, questo grafico in alto vi fa vedere le estrazioni di ritardo È lo stesso grafico, molto simile a quello che sta sull'8++ Però in questo caso lavora sulla nazionale E vediamo che la situazione più interessante è quella sulla quinta posizione Dove ritarda da 297 turni Sotto vediamo le frequenze Quante volte un numero è uscito su una posizione? Per esempio sulla posizione quinta è uscito solo una volta Quando? Nelle ultime 300 estrazioni Perché stiamo esaminando 300 estrazioni Quindi diciamo che comunque bisogna dare più peso alla parte superiore Alla parte dove si parla dei ritardi Questo numero 22 è interessante in quinta posizione È così, se vogliamo vedere un altro di questi numeri Andiamo a vedere per esempio il 56 che è interessante Guardate il 56, attuale ritardo 7 Prima ha fatto 3, 3, 4, 8 Attenzione che non è scontato trovare numeri così Perché guardate per esempio l'1 Non dice proprio niente Non ha avuto nessuna regolarità Guardiamo il 2 Non ci dice proprio niente, nessuna regolarità Invece il 56, sì, ci dice qualcosa E anche il 53 Guardate il 53, attuale ritardo 10 Prima ha tardato di 10 turni Prima ancora di 10 turni Sta facendo salti di 10 Ci sarà un motivo? Non lo so Sta al fatto che Ce l'aspettiamo, potrebbe sortire Il 53 In quale posizione? Andiamo a vedere posizioni del 53 Quindi prima si sceglie il numero E poi si vanno a vedere le posizioni Posizione del 53 La migliore è quella centrale Cioè la terza posizione Sotto vediamo le posizioni Dove è stato più frequente Nelle ultime 300 estrazioni È stato più frequente nella prima posizione È uscito 5 volte Quindi chi crede di più alle frequenze Può anche seguire il grafico sotto Diciamo che per fare una cosa giusta Sarebbe da giocare in terza posizione E in quinta posizione Scusate, in prima posizione Terza posizione e in prima posizione In terza per dar più ragione Ai ritardi E in prima posizione Per dar più ragione Alle frequenze Cioè alle presenze La frequenza è quanto Un qualche cosa accade In un certo periodo di tempo In 300 estrazioni Ultime 300 Questo numero 53 è sortito 5 volte Ci sono state 5 frequenze Sulla prima posizione Bene Attenzione Non solo Non solo Questo programma Fa Presenta anche Questo stesso grafico Questo stesso grafico Lo possiamo vedere Anche qui sotto In modo più 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 tecnico Diciamo Ma neanche più tecnico In modo più In modo diverso Che però Praticamente È la stessa rappresentazione Del grafico in alto Però ecco Vediamo Dove ci sono le aree riempite Devono essere Meno riempite possibili Le aree Perché Il numero sia valido Vedete qui in fondo Infatti è molto È molto bassa L'area Molto piccola Molto stretta L'area riempita Se vedete In pratica È la stessa rappresentazione È solo così Per dare la possibilità Di una ulteriore valutazione Ma non solo Ricordatevi Che con questo programma Possiamo provare Le ultime 300 estrazioni E abbiamo Questo l'abbiamo già fatto Ma possiamo vedere Sempre il numero 53 Anche nelle ultime 600 estrazioni Basta cliccare qui E vedere Il 53 Eccoli qua Queste sono le ultime Le ultime 600 estrazioni Ma anche le ultime 1000 Clicchiamo 1000 E clicchiamo di nuovo Il 53 Queste sono le ultime 1000 estrazioni Vedete che velocità Fantastico Come sempre Si possono vedere Le posizioni Ma questa volta Visto che Stiamo ragionando Su 1000 estrazioni Le situazioni Le situazioni sono diverse Nella terza posizione Abbiamo sempre Il ritardo di 180 turni Ma nella prima posizione Troviamo il valore 10 Se vi ricordate Prima era 5 Perché in 1000 estrazioni È sortito 10 volte Sulla prima posizione Ha mantenuto Questa Questa costanza Potrebbe sortire ancora Sulla prima posizione Perché sta Sta avendo Questa tendenza Bene Ma non solo Torniamo Sull'ultime 300 E clicchiamo Un altro numero Vediamo il 56 56 Abbiamo detto prima Che era bello Guardate il 56 Attuale ritardo 7 Prima ha fatto 3 3 4 8 Bellissimo Questo andamento Guardiamo le posizioni Per il 56 Prima posizione Nazionale E qui sotto Le frequenze Non mi dicono niente Non ce n'è una Che si staglia più Delle altre Diciamo ecco Che spicca più Delle altre Ma nella Per quanto riguarda I ritardi Sì Prima posizione E anche terza Prima e terza Prima e terza posizione Il 56 Sulla nazionale Ma non è tutto Non è tutto Con questo programma Puoi anche cliccare Questo bottone Analisi Ultimi sortiti Per vedere Direttamente Qui Sulla destra Qual è L'andamento Nel grafico lineare Degli ultimi numeri Sortiti Quali sono i numeri Sortiti Se vedete qui 44 3 13 16 E 40 Quindi Eccolo qua 44 3 13 16 E 40 Questo è l'andamento Che vi può Dare un'idea Così a colpo d'occhio Fra questi Diciamo che forse Quello più interessante Può essere questo Che ha un po' di Irregolarità Il 16 C'è un po' di Irregolarità Verso la fine È più basso Vedete c'è un po' di Irregolarità Come si fa a vederlo meglio Si clicca questo Bottoncino qui a destra E quindi Vediamo meglio L'andamento Del 16 Vedete che qui a destra C'è 0 Come valore Perché vuol dire Che è appena uscito Prima ha fatto 2 16 26 8 Diciamo che questo è un numero Di quelli che piace a Marcus Di solito Cioè quei numeri Che nella media Tendono a uscire A me piacciono più quelli Che si adagiano E continuano a uscire Qui verso il fondo Come era per esempio Il 56 Questo però potrebbe essere Anche interessante Ok E anche per questo Posso andare a vedere Le posizioni Quindi numero 16 Prima, seconda E quinta posizione Sono quelle più interessanti Bene Ma non è tutto Chiudiamo l'analisi Degli ultimi sortiti E andiamo a vedere Che cos'altro può fare il programma Una cosa molto semplice Intanto si può andare Ci si può spostare A una estrazione precedente Quindi fare il controllo A una estrazione precedente Però attenzione Ve lo dico Così lo capite bene Se il calcolo C'è scritto qui anche Se il calcolo Viene eseguito All'ultima estrazione Il valore più a destra È in pratica In ritardo attuale Del numero selezionato Vedete? Zero Perché è appena uscito No? Invece Invece Se ci spostiamo A una estrazione precedente Cioè se ci spostiamo Indietro con questa Andiamo qui a scrivere 4300 per esempio Vedremo una rappresentazione Di quel momento Ma l'ultimo valore a destra In quel caso È il ritardo Che il numero aveva Quando sortito Per l'ultima volta Quindi non sarà più Il ritardo Ok? Questa è una cosa Che volevo spiegare Insomma Però questo è un programma Che si usa All'ultima estrazione All'ultima estrazione È Diciamo Il suo Utilizzo Perché? Perché se io prendo Il 22 Il 56 Il 53 Posso giocare Tutti e tre Per Ambo E singolarmente Nelle posizioni Come vi ho fatto vedere O per ambata Ma nelle posizioni Meglio Ricordatevi che Il grafico si vede Sempre da destra A sinistra A destra avete L'ultimo Il nuovo ritardo Che c'ha Questo 53 Porta adesso 10 turni di ritardo Prima ha fatto 10 10 1 16 Molto bello Molto bello Ha avuto questo picco Ma in una fase precedente E poi altra cosa Con questo programma Si possono vedere In modo veloce Tutte le estrazioni Della nazionale Basta cliccare Questo bottone Mostra tutte le estrazioni Ecco qui Che abbiamo Questo pannellino Dove ci sono Le ultime 300 estrazioni Per data Le potete scorrere Con il Con il mouse Oppure potete anche Cliccare questo bottone Per vedere Tutte le estrazioni Della nazionale Ci mette 4-5 secondi A calcolarle Ve le far vedere tutte Bene Questo è il programma Che si chiama Fortissimo Nazionale 2022 Ripeto Grafico lineare Dei ritardi Con le posizioni Analisi Degli ultimi sortiti In modo automatico Sempre Con le posizioni Ovviamente Dopo aver selezionato Uno di questi numeri Per esempio Il 3 E poi Vediamo la posizione E questo è Quello che vi permette Di fare Il programma Oltre A mostrarvi Tutte le estrazioni C'è sempre L'utilità Di calcolo Vincite Quella è una cosa Che metto Di solito In tutti i programmi Vi ringrazio Per l'attenzione Spero che Il programma Interesserà A tanti Sotto trovate Il link Per ottenere Velocemente Questo programma Sopra Il numero Per contattarmi Tramite Whatsapp E ci sentiamo prestissimo Vi ricordo Attenzione Che questo funziona Solo su Windows Niente telefoni Solo Windows Windows Quello che volete 11 10 2007 Windows 7 Windows 8 Anche Windows XP Non ci sono problemi Ciao a tutti Grazie per l'attenzione Mettete i like Registratevi al canale E Vi saluto con gli effetti speciali Ciao ciao Grazie a tutti